Perchè voglio restare con me una volta? Non voglio usare il motorco su un casò. Quel poco che vago a pescare vago con la barca e vago a rimi. E senti il colpo del rim in acqua, cantami una canzon con stesso ritmo della vogata. Vago per ore e ore e non sono mai stanco. Perchè voglio usare il corpo su un carico su un sacco. Perchè voglio usare il corpo su un sacco di insieme. Perchè voglio usare il corpo su un sacco di inattacità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché si andava, e tante volte andava di notte qualcuno con noi così, era un spettacolo vedere sotto le luci, la pezzi che girava intorno. E si vedeva i caramai, si vedeva le sardelle, si vedeva, tutto veniva, tutta la galla. La vedeva così, due, tre, quattro metri sotto, come che era? Era bellissimo, era bellissimo. Dopo la pesca notturna, specialmente delle sardelle, venivano le donne del paese e comperavano il pesce. Se lo ponevano nelle ceste sulla testa e facevano circa 800 scalini dal porto di Santa Croce fino a Santa Croce. A Santa Croce veniva 70 donne, 50, 60, come era? Tutte su per le scale, col planer e portava 10, 15, fino a 35 kg su. E poi procedevano, per tutti i paesi carsici, a vendere casa per casa il pesce. Facevano circa 30 km al giorno. Qui era il sito migliore della pesca del tonno. Le tonare qua, nella nostra costa, partendo da Contovello, Grignano, Santa Croce, Aurisina, erano 5, 5 di queste tonare, 5 barche. Capitava la nata buona, anche due, 200 tonni, anche 300 tonni, alla volta dei branchi enormi, ma queste erano già eccezioni e se no normalmente pescavano così dei branchi più piccoli. Quando si faceva la circolazione del branco dei tonni, veniva tutto il paese ad aiutare a tirare la rete in terra. E perciò era una grande festa. Adesso la nuova generazione di pesca dovrebbe vedere gli sbagli del passato e migliorare. È cambiato abbastanza perché la comunità europea ci ha dato molte ma molte restrizioni. Però diciamo anche a un certo punto ha dato delle restrizioni quasi in bene, perché prima si faceva quello che si voleva, invece adesso ci sono dei paletti e dobbiamo rispettarli. La mia pesca principale sono i laterini, i gamberi, pescati la mattina presto. Verso mezzanotte, luna, esco in laguna con la barca per tirare su le nasse o i covoli. Poi li metto nelle cassette e verso le sette si va in mercato all'ingrosso a grado e si vendono. Una volta in laguna c'erano anche altri tipi di pesca oltre all'atterino. C'era la pesca della sogliola, delle passere, branzini, orate, anguille, go. Purtroppo adesso sono scomparse per vari motivi e sicuramente è causa dell'uomo. È un lavoro duro però ci sono anche soddisfazioni, perché alla fine sei sempre fuori in mare, vedi l'alba, vedi il tramonto, sei sempre a contatto con la natura e tutto, hai più libertà, ecco. Ho scoperto una passione che è la pesca e mi piacerebbe mandare avanti questa passione. Abbiamo fatto una spesa di prendere questa barca nuova, abbiamo cominciato a fare un'attività di pesca turismo e vorrei mandare avanti questo progetto. Per me il pesca turismo non solo può dare la possibilità alla gente di capire com'è il mondo della pesca, ma può anche essere una opportunità per i pescatori per far respirare il mare. La trasparenza dell'acqua, la temperatura, la profondità, sono tutte cose che fanno del nostro pescato uno tra i migliori commercializzati oggi. In questo campo la pesca turismo entra in contatto con tutti quelli che vogliono e hanno il piacere di conoscere la vita di noi pescatori. Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti.